Presidente, con queste elezioni è la fine del berlusconismo? Credo che è la fine di un ciclo politico segnato da una forte egemonia culturale. Il berlusconismo è stato davvero un linguaggio nazionale, ha convinto, non ha soltanto vinto, ha mutato l'ordine del discorso, ha segnato l'antropologia. Credo che il voto amministrativo abbia rappresentato da parte degli elettori il bisogno anche urgente di uscire dalla dimensione della pubblicità e di entrare nella realtà. Alla pubblicità berlusconiana che nasconde i problemi e i drammi del nostro paese ha risposto l'Italia che non ne può più della volgarità e della propaganda e che vuole guardare in faccia il proprio presente angustiato e il proprio futuro difficile. I candidati di SEL o comunque non PD a volte vanno anche meglio? Ma intanto, diciamo, tra i vincitori bisogna mettere le primarie. Hanno vinto le primarie. Le primarie portano aria pulita nel centro-sinistra, spiazzano le vecchie nomenclature, aiutano il ricambio, non solo quello generazionale. E allora Milano, con le primarie e con il candidato che io avevo segnalato, Giuliano Pisapia, che vince le primarie, compie il miracolo, diciamo, di battere in maniera così plateale chi riteneva di essere madre padrona della città come Letizia Moratti, ma non solo, ma in tante altre realtà come Cagliari, il candidato di Sinistra Ecologia e Libertà batte il candidato del centro-sinistra e poi si afferma in maniera impetuosa. Per me è molto bello, non per Boria di partito, è molto bello che il centro-sinistra non abbia paura di lasciarsi contaminare da un processo di partecipazione democratica. Lasciamo gli uomini della provvidenza alla destra, perché gli uomini della provvidenza portano sempre guai. Noi abbiamo bisogno che i popoli si diano il coraggio di guardarsi allo specchio e di cambiare lo stato delle cose. Il centro-destra comunque dopo il primo impatto si è ricompattato e adesso marcia a testa bassa per mutare quello che potrebbe essere l'esito di Milano e anche di Napoli. Ma se marcia a testa bassa io posso, diciamo, non impegnarmi più per la campagna elettorale perché mi pare che vinceremo senza bisogno di far nulla, perché loro sono stati puniti in questa proprio modalità di fare la lotta politica, volgarità, violenza, diffamazione. Credo che se continueranno così avranno una sorpresa ancora più brutta ai turni di ballottaggio. Per il momento la sensazione che l'Italia respiri, la sensazione che il vento stia cambiando è molto forte. A Napoli cosa prevede? Che stravincerà Luigi De Magistris. Noi il centro-sinistra espugnerà la capitale del sud e la capitale del nord. Luigi De Magistris sarà il sindaco di Napoli e Giuliano Pisapia sarà il sindaco di Milano. E allora dopo i ballottaggi a livello nazionale di governo potrà cambiare qualcosa? Diciamo che già questo primo turno è stato un avviso di sfratto per il governo Berlusconi. Lei è pronto a candidarsi? Io sono pronto a far vivere questa creatura che ha dato così buone prove, cioè le primarie.